Ciao, sono Marco e nel video di oggi andremo a vedere alcune demo del tema porto per WooCommerce. Nei video precedenti, che trovi in parte suggeriti qua sopra e gli altri all'interno del mio canale, abbiamo iniziato un po' ad esplorare questo tema per WordPress, di fatto, che in sinergia con WooCommerce ci consente di costruire dei veri e propri store online, quindi degli e-commerce, per dare inizio a quella che è la nostra attività o quella di un nostro cliente. La particolarità che distingue inoltre questo tema, ed è proprio per quello che stiamo facendo questi video su quelle che sono le demo, è proprio perché Porto ha studiato le più diverse, le più disparate demo per, di fatto, andare a ricoprire tutti i vari possibili settori di mercato, quindi tutte le varie nicchie di mercato possibili esistenti oggi sul commercio. Abbiamo visto, infatti, tantissime demo che vanno per lo più a impattare poi su quella che è l'home page, ma non solo, e che comunque ci consentono quindi di andare a scegliere esattamente quello di cui abbiamo bisogno per ottenere il massimo della personalizzazione per, appunto, il nostro e-commerce o il e-commerce di nostro cliente e, di fatto, per andare a costruire anche nel modo più corretto possibile per quanto riguarda quel particolare settore merceologico o quella particolare nicchia. Direi quindi di non perdere altro tempo e andare a vedere le altre demo. Direttamente dalla pagina ufficiale del tema Porto, troverai comunque il link qua sotto in descrizione, andiamo a quelle che sono le demo, abbiamo già detto questo in altri video anche, Porto nasce come tema soprattutto per quanto riguarda, appunto, e-commerce, quindi gli store online, ma non tralascia comunque altre possibilità. Abbiamo, infatti, più di 80 demo per quanto riguarda, appunto, multiple posts, quindi stiamo parlando di altre tipologie di fatto di siti che non riguardano espressamente gli e-commerce, quindi possono essere siti corporate, possono essere siti one page o altre tipologie che, appunto, sono esterne e che non riguardano gli e-commerce. Noi, comunque, continuiamo ad esplorare, di fatto, quelle che sono le demo relative agli e-commerce. Andiamo quindi avanti da dove eravamo rimasti, continuiamo la visualizzazione di queste demo. Abbiamo un'altra demo relativa, di nuovo, al settore che potrebbe riguardare un pochettino quello che potrebbe essere la moda, comunque, vestiti o abbigliamento, insomma. Abbiamo subito un primo fascione con un'offerta che si può anche articolare con due bottoni, quindi comunque modificabile. Abbiamo successivamente una nota per quanto riguarda quelle che sono le politiche del nostro e-commerce, quindi come, per esempio, raggiungere le spedizioni gratuiti. Abbiamo il cambio di lingua per quanto riguarda e-commerce, di valuta e di lingua per quanto riguarda, appunto, questa demo. Abbiamo poi le principali voci di menu, che sono quella di contatto, il carrello e il login. Poi abbiamo una grossa barra di ricerca, questo implica che probabilmente è una demo con molti prodotti, con molte categorie, quindi la ricerca può aiutarci subito. Abbiamo il login, naturalmente, la wishlist e il carrello. Abbiamo poi un menu fatto di fatto a pallini, dove viene mostrato quelle che sono le principali categorie, quindi mostrate con dei circoletti, con quelle che sono le categorie. Ognuno di questi manda direttamente alla nostra categoria. Oppure abbiamo questo bottone categoria, che ci manda direttamente alla pagina, appunto, dello shop, con la sua divisione in categorie. Torniamo però all'home page. Abbiamo questo slider, questo primo slider, dove, come abbiamo visto per altre demo, l'immagine qui, diciamo che è molto, molto grande, viene dato un particolare risalto a questo slider. Abbiamo comunque del testo, un bottone, sempre per dare la possibilità di inserire quella che può essere un'offerta o quella che può essere, appunto, il link direttamente a un prodotto o a una categoria che vogliamo particolarmente spingere. Uno o più, perché abbiamo uno slider, quindi abbiamo la possibilità di inserire più categorie, più prodotti o quello che vogliamo. Subito sotto troviamo quelle che sono, abbiamo già detto, le sezioni relative alle politiche dell'e-commerce, quindi servizi offerti, come ottenere magari le spedizioni gratuite, come ottenere degli sconti e il fatto che ci sono pagamenti sicuri e questo poi sta a noi, quando costruiremo l'e-commerce, andare a compilare nel modo che interessa a noi, fondamentalmente. Abbiamo una classifica, una top ten di prodotti, ordinati dal primo al decimo, quindi costruita con uno scroll laterale, quindi che ci permette di vedere quelli che sono i top ten dei prodotti di questo e-commerce. Poi abbiamo un'immagine mappata, dove possiamo addirittura inserire dei prodotti e indicarne a seconda della zona in cui andiamo a cliccare e vedere il dettaglio del singolo prodotto. Questo per costruire in maniera molto molto carina magari un acquisto multiplo di prodotti. Qua comunque abbiamo la lista dei prodotti e passando sul singolo bottoncino dell'immagine abbiamo il dettaglio del prodotto. Abbiamo poi due bottoni, sempre per quanto riguardano le categorie, poi abbiamo un carousel di prodotti che sono in sconto, quindi anche qui prodotti che vogliamo mettere comunque in risalto, una call to action, quindi abbiamo sempre sconti o offerte con un bottone che rimandano a quella determinata categoria, a quel determinato prodotto o comunque a quel gruppo di prodotti che fanno parte di una particolare offerta. Abbiamo un altro carousel con quelli che sono gli ultimi arrivi, abbiamo descrizione alla newsletter per avere le offerte e gli ultimi arrivi, tutte le novità e arriviamo poi a quello che è il footer dove abbiamo un footer diviso a quattro colonne e l'ultima parte relativa appunto al copyright e ai sistemi di pagamento. Andiamo a visitare un prodotto, vediamo come è fatta la parte di un prodotto, qui si tratta di una demo, quindi abbiamo probabilmente un po' di errori, visto che si tratta di una demo, abbiamo comunque l'immagine del prodotto, il titolo, le recensioni, il prezzo, la descrizione, l'aggiungere al carrello e le tab e i prodotti correlati sotto. Qua abbiamo il prodotto che comunque occupa l'intera pagina, quindi non abbiamo sidebar di sinistra, non abbiamo sidebar di destra, eccetera, ma diamo pieno spazio al prodotto. Direi che anche questa demo è molto molto particolare, abbiamo visto con due particolarità la suddivisione in categoria con questi bullet, di fatto con questi circoletti iniziali e molto molto attraente, molto molto bella e interessante l'immagine mappata con i prodotti. Andiamo avanti alla demo successiva, cambiamo completamente il settore merciologico, qui ci stiamo occupando di apparecchiature mediche, quindi cambia completamente il settore, abbiamo subito un numero a cui fare riferimento, abbiamo anche qua eventuali offerte che possono essere messe subito in evidenza e poi abbiamo altre voci di menu che sono quelle che possono essere utili, quindi come avere supporto e come tracciare il nostro ordine, il cambio di valuta, il cambio di lingua e i social. Successivamente abbiamo il nostro logo, abbiamo il nostro mega menu e poi abbiamo la barra di ricerca, il My Account Wishlist e aggiungi al carrello. Qui abbiamo uno slider dove abbiamo i prodotti messi in risalto, i primi prodotti messi in risalto, quindi ecco che abbiamo il prodotto quasi centrato, comunque l'immagine messa o da un fianco o dall'altro, possiamo inserirne nel testo, alla sinistra, alla destra con quella che è appunto magari la nostra offerta e il bottone che ci rimanda come già detto alla pagina shop, alla pagina di categoria o alla pagina del singolo prodotto. Immediatamente sovrapposto a questo slider abbiamo quelli che sono appunto come sempre le politiche dell'e-commerce, le regole dell'e-commerce, i servizi dell'e-commerce, quindi il supporto, quindi i pagamenti sicuri, quindi come ottenere le spese di spedizione magari gratuite, poi sta a noi andare a compilare questi box. Andando avanti, abbiamo prodotti che sono messi in evidenza anche qua con un carousel, quindi possiamo anche inserirne, ne abbiamo quattro per quattro colonne, possiamo inserire però più prodotti e mostrare questi prodotti con il carousel. Abbiamo anche qui una call to action, quindi dove abbiamo delle, diciamo delle offerte o qualunque cosa vogliamo mettere con la call to action e un bottone che manda a questa particolare call to action. Abbiamo poi dei nuovi, gli ultimi arrivi, diciamo quindi gli ultimi prodotti che sono arrivati, anche questi mostrati con un carousel e poi abbiamo un'altra visualizzazione piuttosto particolare, carina, che si addice molto a questo comunque settore per quanto riguarda la visualizzazione dei prodotti suddivisi in categoria. Quindi abbiamo delle, diciamo, immaginine stilizzate e il nome della categoria per quanto riguarda questi prodotti. Andando avanti, abbiamo un blocco che abbiamo già visto anche in altre demo per suddividere in quattro colonne, dove abbiamo i prodotti in evidenza, i più venduti, gli ultimi prodotti inseriti e i più recensiti. Poi spazio in questa demo anche al blog, quindi abbiamo gli ultimi tre articoli di blog che vengono appunto pubblicati direttamente nella home page. Arriviamo poi a quelli che sono, diciamo, i brand o comunque quelli che sono magari le marche trattate, i marchi trattati e arriviamo poi al footer, anche questo suddiviso in quattro colonne con l'iscrizione alla newsletter e sotto copyright e metodi di pagamento. Andiamo a vedere all'interno un singolo prodotto. Il prodotto si mostra come abbiamo visto nelle altre demo, quindi abbiamo la foto, la galleria, titolo, recensione, prezzo, descrizione breve, aggiunge al carrello e le tab, le varie tab. Abbiamo anche qui i prodotti correlati e poi arriviamo immediatamente al footer. Come potete capire, quello che varia moltissimo è la home page, gli effetti variano, le esigenze, soprattutto dal settore mercologico all'altro, variano. Grazie a queste demo possiamo davvero andare a ricoprire ogni singola nicchia di mercato che stiamo vedendo per adesso. Direi che per quanto riguarda le demo per oggi è tutto. Bene, mi auguro che tu abbia trovato utile questo video. Se comunque hai dei dubbi o hai delle domande, lasciamole scritte qua sotto nei commenti così che posso darti una mano per quanto possibile. Se ancora invece stavi cercando qualche approfondimento relativo al mondo WordPress, e-commerce, temi, plugin, Elementor e spulciando all'interno del mio canale e non hai trovato quello che stavi cercando, lasciamelo anche questo scritto qua sotto così che magari io posso trovare qualche altro spunto o qualche altra nuova idea per qualche altro video di informazione proprio come quello che hai visto adesso. In ogni caso, comunque, se questo video ti è piaciuto, metti un mi piace, attiva la campanella qua sotto e seguimi nei prossimi video. Ciao!